La brigata Sassari è impegnata in Libano, ce ne parla Maurizio Ciotola. Ieri in Libano abbiamo assistito al più grande sfregio nei confronti di quelli che sono i diritti internazionali e soprattutto nei confronti di una ragionevolezza di cui le democrazie devono essere portatrici. L'Unifil nelle sue postazioni del sud del Libano è stata oggetto di aggressione da colpi sparati da un tank israeliano, non per errore ma con un fine preciso. L'obiettivo è l'organizzazione delle Nazioni Unite, cui Netanyahu in suo intervento nella sede dell'ONU di New York ha come dire anticipato disprezzando il luogo in sena al quale gli era consentito a parlare ed essere ascoltato in quanto rappresentante di Israele. Il ministro della difesa italiano ha parlato di crimine contro l'umanità per quanto riguarda l'attacco al contingente Unifil di cui fa parte la brigata Sassari. Altri osservatori hanno detto che il governo israeliano vuole eliminare i testimoni di ciò che sta compiendo e vuole compiere in Libano. Il contingente di pace dell'ONU, capeggiato dalle forze armate italiane ieri come oggi con la brigata Sassari, ha una funzione di pace ed è l'unico e il principale motivo per cui il nostro paese interviene con i militari all'estero. L'avversione verso il contingente ONU è una avversione verso la pace di cui il governo israeliano deve assumersi tutte le responsabilità e verso cui il nostro paese e la nostra regione, visto che siamo fisicamente espressioni di questo strumento di pace, deve agire senza tentennamenti, con azioni decise nei confronti della politica devastatrice israeliana. Il ministro Crosetto, rivolgendosi al governo israeliano, ha dichiarato che sarebbe inaccettabile per l'Italia il ferimento o la perdita di un solo uomo impegnato nella missione di pace dell'ONU, così come sarebbe inaccettabile ritirarsi da questa missione per lasciare campo libero alla violenza devastatrice pianificata dal governo israeliano. Sarebbe come abdicare al disegno di pace per l'umanità e, per noi italiani in particolare, disattendere i principi fondanti della Costituzione.